Claudio non c'è più, ma Leo non si rassegna. La storia, già carica di tristezza di per sé, è quella legata alla scomparsa del giovane portoferraiese Claudio Leonardi, ucciso a solo 27 anni da un male incurabile. Leo il cane della famiglia Leonardi è un pastore tedesco di otto anni, buono come il pane, che aveva scelto proprio Claudio come suo padrone. Dal momento della scomparsa di Claudio Leo si era dapprima comportato normalmente, ma poi ad un certo punto aveva deciso di andare a cercare quella persona che non c'era più. Era la prima volta che si allontanava da casa o dal negozio, ci hanno detto i familiari, lo abbiamo ritrovato alla sala mortuaria dell'ospedale, nella stessa stanza da dove era passato il ferretro di Claudio. Leo aveva già provato ad andare al cimitero, ma trovata la porta chiusa, aveva pensato di raggiungere uno degli ultimi posti in cui aveva sentito la presenza del suo padrone. Si era accucciato in un angolo della morgue e non voleva più saperne di andare via. Ci è voluto l'intervento di Patrizia, la mamma di Claudio, per convincerlo a tornare a casa. Ora Leo ha ripreso la vita di tutti i giorni ed accompagna i padroni in negozio come fa da otto anni. Va insieme a loro ogni giorno al cimitero, sulla tomba di Claudio e quando torna a casa ogni tanto va nella camera del ragazzo e si accuccia sul letto mugolando. Una storia triste, ma quella di Leo, però fa capire, se ce ne fosse ancora bisogno, come certi sentimenti non appartengano soltanto all'uomo.